Cristo risorto! Buongiorno cari fratelli e sorelle. Oggi è un giorno di gioia. Oggi il Signore ti dà questa buona notizia. Gioisci in me perché io sono con te. Voi mi chiederete ma da dove hai queste parole? Da lui, dalla sua parola perché il Vangelo di Giovanni al capitolo 16 continua ciò che ieri abbiamo ascoltato e ci comunica gioia, ci trasmette gioia proprio perché forse non siamo in questo atteggiamento adesso. Ecco che al versetto 21 dice la donna quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua ora ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Gesù in questo discorso finale che fa prima di andare sulla croce, dare la sua vita, parla ai suoi discepoli della gioia e della tristezza che c'è attuale e quella tristezza di quando loro non lo avranno più nella carne il verbo di Dio e fa questo paragone bellissimo. La donna che da quando è incinta e partorisce in quel momento soffre perché ci sono dei dolori del parto alla nascita di un nuovo uomo, un bambino, di questo figlio e la gioia che fa dimenticare quel travaglio, quelle ore, quei minuti forti in cui ha dato la luce il bambino. Che bello questo paragone, Gesù è un uomo concreto e ci fa capire con concretezza il dono della gioia e allora ci fa capire di come a volte certe situazioni in qualche modo sono una via per arrivare alla gioia. Non voglio dire una necessità perché cadiamo in certi estremismi che non vanno bene, che dobbiamo necessariamente soffrire per poi gioire. No, però Dio permette il male. Questo è il principio della libertà, dell'amore di Dio, lo permette affinché poi per noi ci sia qualcosa di meglio. Quel bellissimo brano nei Promessi Sposi, Dio non toglie mai una gioia se non per darne a noi una di più certa e vera e forte. Ecco che la donna quando partorisce è nella sofferenza ma poi ha gioia, così anche voi ora siete nel dolore ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà tolveri la vostra gioia. Amen. Quindi questa buona notizia io vi annuncio che se sei nel dolore, se hai iniziato questo giorno nella sofferenza, nel travaglio, non temere perché dice Dio Gesù ti vedrà di nuovo. E finché pregavo e preparavo questo brano mi ha toccato molto questo fatto che è Gesù stesso che mi vedrà, che ti vedrà. Perché? Perché viene a noi in un modo concreto, nuovo. Non solo siamo noi a vederlo ma è lui che vede noi, che viene incontro a noi e il nostro cuore si rallegrerà. Ma c'è una notizia ancora più bella. Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Giovanni 16, 22. Imparate, impariamo a memoria questi versetti. Giovanni 16, 22. Nessuno ti potrà togliere la gioia che il Signore ti dà. Amen. E questo è forte. Dobbiamo sigillare questa parola nel nostro cuore, nella nostra mente e dell'Espirito Santo. Sigilla in me le parole del Vangelo. Giovanni 16, 22. La gioia che viene dall'alto, da Dio, da Gesù, nessuno me la toglierà. Amen. Perché se non facciamo questa operazione, come Gesù ha detto nella parabola del seminatore, il seme che è stato seminato va sopra i rovi, sopra i sassi, muore, perde, non entra nel terreno. Questa parola dobbiamo lasciare che entri nel nostro cuore in profondità e poi dice che davvero questa gioia è piena, è abbondante. E noi oggi, prendendo il salmo proposto proprio dalla giornata della liturgia di oggi, 47 dice, popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia. Vedete che è la giornata della gioia questa. Noi, come non io Giovanni Battista, siamo un popolo, dico popolo, una comunità abbastanza chiassosa di natura, quindi quando preghiamo battiamo le mani, apriamo le mani, eleviamo le mani. Ecco, qualcuno dice che facciamo show, esibizionismo, che non c'è vera gioia e invece è proprio il contrario. Non riusciamo a contenere quella gioia che Dio ha messo in noi e quindi è per questo che quando noi normalmente avete visto la casa di preghiera, quando preghiamo battiamo le mani per gioia, per manifestare che è bello lo dare Dio, manifestare che è bello dare gloria al Signore. E il salmo lo dice, non possiamo cancellare il salmo 47. Popoli tutti battete le mani, lo so, siamo stati abituati o siamo abituati in un altro modo. Noi siamo razionalizzatori, quindi abbiamo razionalizzato anche la fede, a volte il silenzio per noi è la preghiera per eccellenza, perché è una contrapposizione alla confusione del mondo. Ma Dio è gioia. Il popolo di Israele non è mai stato silenzioso. Ci sono momenti per il silenzio e lo rispettiamo e anche noi le abbiamo come comunità. Ma quando il popolo di Dio acclama il Signore, da fronte all'arca dell'alleanza, immaginate, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, che la gioia tua si veda. A volte ci giustifichiamo dicendo io ho una gioia piena, ma è dentro, 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 così dentro che non si vede neanche un dente del mio volto. Sono gioioso. Come va? Bene. Scusate che prendo in giro un po'. Ma si deve vedere la gioia. Quante volte il Papa Francesco ce l'ha detto? Fate vedere, cristiani, fate vedere che siete gioiosi, che avete incontrato Cristo. Amen? E il Salmo ci dice, popoli, batti le mani, acclama Dio con grida di gioia. Grida. No, con un po' alla volta, Signore sei grande. E poi dice, perché? Perché Dio ha sottomesso i popoli e sotto i nostri piedi è posto le nazioni. Cantate inni a Dio, cantate inni. Dio ha sottomesso i tuoi nemici, i miei nemici. Questo è il motivo della mia gioia, del mio grido, della mia esultanza. Gesù lo ha detto. Il vostro lutto, la vostra tristezza si trasformerà in gioia e la vostra gioia sia piena e nessuno, Giovanni 16, 22, te la toglierà. Quindi preghiamo, ma un compito per casa. Oggi ricevi la pace e la gioia di Cristo risorto. Non permettere che nessuna persona, nessuna situazione e neanche te stesso, il corpo, i pensieri, ti portino via questa gioia. Affinché realizziamo le parole di Gesù, Giovanni 16, 22, nessuno ti toglierà la sua gioia. Gesù, grazie perché tu sei con me, tu sei con noi oggi. Cammini insieme a noi e ti chiediamo di accompagnarci in questo giorno con la tua luce, con la tua serenità, con la tua presenza, presenza di colui che ha sconfitto il male, ha sconfitto i miei nemici. E donami di celebrarti nelle mie preghiere e nella mia vita quotidiana con gli altri attraverso anche la testimonianza che tu sei un Dio vivo che vive e regna nei secoli, dei secoli. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, già ve lo annuncio, l'ho detto e ve lo dirò. Sabato e domenica riprendiamo le celebrazioni festive, quindi sabato ore 16.30 la messa a Veglio, in parrocchia, ore 18 a Strona qui, domenica ore 9 a Camandona, ore 10 a Veglio in parrocchia e ore 10.15 come consuetudine qui a Strona, che sarà trasmessa questa messa anche in live streaming, quella di Strona, per dare la possibilità a tutti coloro che non riescono a raggiungerci di vederci anche via web. Buona giornata, a presto, un caro saluto, ciao! Sei la mia gioia, oh oh oh, sei la mia forza, danzo a te Gesù. Hai cambiato il mio lamento in danza, na 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 na. Mi hai vestito della tua gioia, na 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 na. hai cambiato il mio lamento in danza, na 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 na. Mi hai vestito della tua gioia, na 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 na. A presto, a presto, a presto.